Oh, secondo voi è vero o è falso che è impossibile leccarsi i gomiti? Ce la fate voi a leccarvi i gomiti? Ce la fate a leccarvi... Oh, vabbè, oh, non è né vero né falso, eh? Allora, solo alcuni contorsionisti, quindi alcuni, eh, proprio bravissimi, riescono a leccarsi il gomito con la lingua, eh? Oh, sicuramente il 70% di voi in questo momento, eh, troverà sicuramente alle casserie pronti Oh, no, non ce la fa, oh, non ce la fa, oh, vabbè, oh, ciao, 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 ciao